Stava effettuando una battuta di pesca subacquea con gli amici quando non è più risalito a Galla. Massimo Battaglia, 38 anni, agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, si è tuffato a circa 3 miglia di distanza dal porticciolo di San Leone, la località balneare agrigentina. Ad un certo punto gli amici, non vedendolo riemergere, si sono insospettiti e hanno lanciato l'allarme. Erano le 18 di questo pomeriggio quando i giovani hanno chiamato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Iniziate subito le ricerche, il cadavere del 38enne è stato localizzato da una motovedetta della Guardia Costiera. Per recuperare il corpo senza vita del poliziotto è occorsa più di un'ora. La salma è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio agrigentino, qui sarà effettuato l'esame autoptico per accertare la causa del decesso. Con molta probabilità il poliziotto ha accusato un malore durante la risalita, non esclusa tuttavia l'ipotesi di un incidente sott'acqua. L'agente della Polfer era in servizio da 15 anni alla stazione centrale della città dei Templi. Massimo Battaglia lascia una moglie e un bambino di soli pochi mesi. Rabbia e dolore dei familiari recatisi al porticciolo di Porto Empedocle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.